Le indagini sulla morte di Martina Rossi sono chiuse. Il procuratore di Arezzo Roberto Rossi ha firmato l'avviso di chiusura per i due giovani aretini accusati della morte della ragazza come conseguenza di altro reato e di tentata violenza. Martina morì il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Mallorca. Inizialmente la polizia spagnola aveva chiuso il caso considerandolo un suicidio. Nel 2012 però le indagini si riaprirono in Italia riuscendo a identificare tutte le persone che si trovavano quella sera in albergo. Due ventenni aretini vennero così chiamati in qualità di testimoni e mentre si trovavano in sala d'attesa alcune micro spie registrarono il loro dialogo. I due giovani si sarebbero scambiate confidenze giudicate compromettenti su un presunto tentativo di violenza sessuale che sarebbe andato in scena a quella tragica notte, uno scenario che fino a quel momento non era trapelato. Da testimoni diventarono indagati e le carte passarono dalla procura genovese a quella retina. Secondo l'accusa Martina sarebbe caduta nel tentativo di sfuggire a un'aggressione saltando da un balcone a un altro, perdendo fatalmente l'equilibrio.